Oggi siamo alla settima puntata per la scelta dei tessuti con artigiani in città. Siete pronti per consigli preziosi? Il divano è un elemento essenziale per la tua zona giorno, diciamo che è un po' il volto. In base allo stile d'arredo, la dimensione della stanza, abbinando il colore del divano a quelle delle pareti, in base alla luce naturale che entra nella stanza, scegliendo in base all'atmosfera che vuoi ricreare. In una casa grande o open space puoi scegliere un divano che occupi tanto spazio. Meglio se dalle tonalità neutre, però si può giardare anche con un colore scuro. In una casa dalle dimensioni ridotte, stile monolocale, scegli un divano piccolo. Meglio se dalle tonalità chiare come questo. Le tonalità scure rimpiccioliscono l'ambiente, si sa. Invece scegliere un divano bianco oppure beige o dalle tonalità del Tortora darà più ampiazza al tuo ambiente. Se per il tuo salotto hai scelto delle belle pareti colorate, scegli per il tessuto del tuo divano un colore analogo o complementare. Oppure abbina un colore caldo-freddo opposto nella ruota dei colori. Per ottenere una giusta combinazione cromatica sono scelta che avrai tenuto conto di mobili, pavimentazione e della luce solare. Questa è una parte importante, ma ne parleremo nella prossima puntata. Lascio un mi piace e continuo a seguirci.